Quest'applicazione l'abbiamo trovata molto carina, sia noi insegnanti che i bambini, ci siamo molto divertiti tutti. I bambini sono sicuramente già abituati di loro ad avere l'iPad in casa e scoprire che si può utilizzare anche in questa maniera, e cioè attraverso un'applicazione che stimola la loro creatività, sicuramente è stata una cosa veramente divertente e positiva, credo che abbia riscosso molto successo.